Cos'è che ti spinge a iscriverti a questi campionati cosiddetti amatoriali? Innanzitutto sia per giocare con gli amici, per creare una squadra, creare un gruppo e poi anche per la passione del calcio che ce l'ho fin da piccolo. Ma non ti pesa giocare con queste serate così, magari invece di stare con la fidanzata e venire qui a prendere freddo? No, no, assolutamente no, poi per la ragazza c'è il pomeriggio, la mattina. La passione, perché gioco a calcio fino a quando ero piccolino e è una cosa che è proprio innata, una passione innata che ho sempre dentro e poi divertirsi e stare con gli amici e fare bella figura quando si può. Lasciare a casa la fidanzata non ti pesa per niente? La fidanzata un po' mi pesa perché poi me lo fa pesare a me, però diciamo che anche stasera il tempo reagisce abbastanza. Ci sono state magari serate peggiori con pioggia o neve, lì era peggio. Cosa ti spinge a iscriverti a questi tornei, addirittura come allenatore? Beh, innanzitutto mi piace allenare perché veramente è una passione, i moduli e tutto quanto. E dato che non ho mai giocato a calcio, proprio vederli, metterli in campo mi fa piacere. Vederli, poi anche urlargli di tutto se non riescono a fare le cose che dico io. Come l'ho detto in precedenza, la mia è una passione. Poi finita la scuola cercherò anche di fare dei corsi per diventare un allenatore, sperando che poi in futuro di andare su magari qualche panchina, anche in serie B. Cosa ti spinge ad iscriverti al torneo, in special modo ai nostri tornei, quelli di calcio Liguria? La passione per il calcio in primis, la voglia di divertirsi con gli amici, perché ormai sarà una di dieci anni che giochiamo insieme, in un clima anche sia serio ma allo stesso tempo neanche troppo agonistico o troppo serio come livello. In primis la grandissima passione per il calcio e poi ovviamente lo stare insieme a tutti i miei compagni di squadra che sono grandi amici e ci divertiamo parecchio insieme. Non ti pesa assolutamente uscire di casa, lasciare la fidanzata, prendere freddo, acqua, vento? I primi due minuti, poi ci si scalda e passa tutto. Piacere di giocare a pallone, che penso che sia un piacere un po' per tutti in Italia, è lo sport principale. Poi comunque lo stare insieme con degli altri compagni, sfogarsi dopo magari una settimana lavorativa. La passione, la passione avendo giocato tanti anni in questi torri qua, adesso non riuscendo più a giocare cerco di dare una mano ai ragazzi, nell'organizzazione. Mi diverto, una bella squadra, bei compagni, facciamo casino, va bene così.